Terrore, violenza, morte, ma anche arte, cultura, musica e la vita di un movimento intellettuale che prese forma proprio nei campi di concentramento. E l'altra pagina della Shoah, il genocidio nazista della seconda guerra mondiale, raccontato da Joshua Karash in La musica Teresim 1941-1945. Il libro, edito da Il Melograno dopo la traduzione in lingua italiana, è stato presentato a Bari dalla curatrice Francesca Recchia Luciani, docente di filosofie ed epistemologie del Novecento. Racconta la storia di un campo di concentramento che in certi momenti non sembra un campo di concentramento, a tal punto che i nazisti lo useranno come campo modello per mostrarlo alla Croce Rossa internazionale, per fare addirittura un film di propaganda girato nel lager, per far vedere come erano felici gli ebrei nei lager. E quindi è una storia incredibile, quindi vi assicuro che anche un lettore, magari meno pronto a temi così drammatici, incontra una realtà del tutto sconosciuta. Veramente è un libro incredibile.